Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo ad aprire un pacchettino che mi è arrivato dal sito Everyday Ideals che è un sito che vende soprattutto quadri a pittura diamante ma anche appunto croce e ricamo. È un sito molto molto carino e diverso dagli altri perché oltre ai quadri a pittura diamante ha anche diversi progettini fai da te che sono appunto diversi dal quadro ma sono altri tipi di decorazioni che secondo me possono tornare davvero molto molto utili. Ci sono per esempio segnalibri, quaderni, borse, portaocchiali e un sacco di altri oggetti da poter decorare appunto con i diamantini. Quelli che ho preso io però sono altri prodotti ancora che adesso vi mostro subito. Il primo kit che vi mostro è un kit a pittura diamante normale, un semplice quadro con un'immagine. Ho scelto questo kit da regalare a mio figlio perché è uno di quei progetti che secondo me è utile anche per i bambini, per i ragazzi nel mio caso. E quindi ho scelto un'immagine da poterli poi far realizzare a lui. L'interno del kit ovviamente contiene sia l'immagine con la base adesiva dove incollare tutti i diamantini colorati, poi un kit che contiene la pennina con diverse punte che si possono scambiare. Qui c'è la punta più piccola e qui la punta più grande. Ovviamente all'interno c'è anche il vassoietto per contenere e raddrizzare i diamantini. Le pinzette che possono essere utili per spostare o raddrizzare i diamantini che magari si sono incollati storti. E poi ovviamente tutti i sacchettini contenenti i vari diamanti colorati. Poi ho scelto un kit dedicato alla decorazione per la casa e questo kit è molto molto particolare. Io non ne avevo mai visti altri in giro negli altri shop che vendono appunto questo genere di kit. E quello che ho scelto io è un orologio che adesso visto così probabilmente non dirà molto ma una volta ultimato vi assicuro che sarà molto bello, molto elegante. Quindi non vedo l'ora di farlo. All'interno del kit anche in questo caso ci sono dei diamanti di diverse dimensioni che sembrano in questo caso delle perle. E un altro kit che contiene anche in questo caso la penna, il vassoio, la cera e la pinza. E inoltre ovviamente essendo un orologio all'interno c'è anche un set che contiene il motorino delle lancette che va a batterie e ovviamente le lancette dell'orologio con tutti gli ingranaggi insomma per poterlo far funzionare veramente. Gli ultimi due kit che ho scelto sono due kit dedicati al Natale e uno mi servirà per realizzare la calza della Befana e wow non vedo l'ora di prepararla. E l'altra invece mi servirà per realizzare le decorazioni di Natale. Ci sono proprio delle decorazioni da appendere all'albero o alla finestra per decorare insomma la casa Natale. Quindi sì non vedo l'ora di provarli insieme a voi. E niente questo è tutto quello che mi è arrivato dal sito Everyday Deals. Ovviamente vi lascio come sempre il link giù nell'info box ma anche tutti i link dei prodottini che vi ho mostrato oggi in questo video. In più per voi c'è sempre il codice sconto anche per questo vi lascio giù tutte le informazioni nell'info box. E niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina se volete rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Vi ricordo anche che giù nell'info box trovate tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato oggi nel video, il codice sconto che potete utilizzare sul sito e tutte le altre informazioni. Con questo è tutto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!